Quando siamo di fronte a situazioni come queste che sono un problema, io non ho mai detto che non sono un problema, scusi, non l'ho mai detto, prima ha detto che non è un problema, no, io l'ho detto che è un problema, se non fosse un problema non saremmo qua a parlare, è un problema che non possiamo accettare che persista nel tempo perché sta provocando una situazione di forte disagio nella popolazione. Guardate, io non è che parlo a Vandera, io sono qua a metterci la faccia, a mettere la faccia dell'USL qua dentro perché non ho intenzione di parlare a Vandera, quello che vi sto dicendo è quello che l'azienda vuole fare, l'azienda vuole che questa situazione venga a cessare, punto.